La tecnologia continua a crescere più velocemente di quanto chiunque possa stare al passo. I professionisti dell'IT di tutto il mondo hanno difficoltà nel rispondere a domande apparentemente semplici come A chi appartiene un determinato dispositivo? Quante installazioni di software abbiamo da questo fornitore? Stiamo vedendo uno strano comportamento da questo indirizzo IP. Cosa sta succedendo? Sono pienamente conforme con la normativa IT del settore di riferimento? Quali dispositivi devono essere sostituiti l'anno prossimo? Immagina di avere un unico database IT con dati di tutti i dispositivi per rispondere a queste domande. Supportare ogni scenario IT con dati accurati e affidabili e un database sempre aggiornato ti sembra un sogno? Lascia che Lensweeper ti stupisca. Lensweeper individua e identifica automaticamente qualsiasi dispositivo nel tuo ambiente di lavoro. In base al tipo di dispositivo trovato, recuperiamo tutte le informazioni sull'hardware, così come la lista completa dei software installati e informazioni sugli utenti. Non importa se i tuoi dispositivi sono in locale, in cloud, fisici o virtuali. Lensweeper li scansiona tutti. Organizzazioni globali possono visualizzare informazioni da dispositivi distribuiti in tutto il mondo in una singola schermata. Il nostro cloud ti permette di accedere ai tuoi dati in sicurezza da ogni luogo e a qualsiasi ora, abilitando la gestione centralizzata di siti remoti. Utilizza le API di Lensweeper per popolare in automatico il tuo CMDB, raggiungere l'eccellenza del Service Desk, potenziare gli allarmi sulla cybersicurezza e molto altro. Non importa quale sia lo scenario IT, Lensweeper ti arricchisce con dati accurati e approfondimenti utili riguardo la tua tecnologia. Lensweeper, provalo subito!